Oggi, finalmente, la ruota comincia a girare. Voglio solo dirvi quanto sono fiero di voi. Siamo stanchi, feriti, ma i nostri sacrifici iniziano a dare i loro voti. Aiutavo i pazienti. Salvavo i pazienti. È stata una guerra allora. Tutto quello che era normale. Amici, intimità. Sembrano cose così strane adesso. New Amsterdam. Prima assoluta. Da martedì in prima serata su Canale 5.